Ritis Constantinavicius, la mia narrazione sul mondo che mi circonda. L'opera si intitola Gnossien numero 1 di Eric Satie ed è una tela di 50 x 50 cm in acrilico e tecnica mista, ispirata sicuramente a questa magnifica composizione per pianoforte. L'atmosfera dell'opera è malinconica, con una trama di colori ipnotici e sottilmente mutevoli. L'armonia della composizione cromatica è come una melodia fluida ed evoca un senso di introspezione meditativa. L'opera di Ritis ha un suo colore predominante ed è quello della musica citata, riflessivo ed onirico, come a cercare di rivelare verità spirituale dell'esistenza umana. L'armonia della composizione, a tratti, in maniera quasi impercettibile, evidenzia delle note di colori più addensato, come se la natura fosse il lento cambiamento, ma comunque destinata ad evolvere. qui si ritrova un'analogia con il mondo astratto e in continua evoluzione. Melodia fluida, languido miele che scorre lento sulle foglie e nutre lo spirito del santo divenire dell'umanità. Grazie. Grazie. Grazie.